E continuo questa fase laterale, una fase da cui Bitcoin non si schioda, però tra le altre cose una fase che dipende da questi valori che andremo a vedere oggi è un po' già dobbiamo iniziare a porci alcune questioni, alcuni interrogativi secondo me fondamentali, ma è importante andare anche a controllare un altro grafico cioè quello di ETH che sta dando una conferma importante nonostante i rialzi delle scorse giornate, quelli del weekend che sono stati interessanti ma poco significativi in quanto sono del weekend, sta dando un segnale che dal mio punto di vista se non supera un determinato livello non è un segnale positivo. Bene ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video Bitcoin Monday, andiamo a guardare tutto quello che è successo negli ultimi giorni, il weekend e vi assicuro assolutamente niente di rilevante perché già il weekend sono spenti ma in questa fase particolare dove i mercati veramente non hanno né volumi né voglia di muoversi perché stanno riassorbendo quelli che sono state le volatilità probabilmente della fine dell'anno e della questione TF e andiamo però a porci l'idea, insomma la questione e il quesito rispondere alla domanda dove siamo diretti, che cosa sta succedendo soprattutto dal punto di vista di Bitcoin e sono mesi che un po' li attendevamo però quando arrivano poi danno sempre un po' fastidio questa fine della corsa, questo rilassamento generale che però c'è anche un lato positivo di cui vi parlo oggi. Intanto lancio della moneta che non mi ricordo se aveva detto rialzo se non sbaglio e quindi ha sbagliato, insomma la volta scorsa ragazzi e adesso ancora rialzo, dice ancora rialzo, vediamo se ci estecca questa volta, va bene. Allora, detto questo ragazzi, tante cose da andare a vedere in questo video ma soprattutto tanti interrogativi, il primo più importante di tutti è la questione TF, quanto è stata importante la questione TF? La vediamo tra poco per tutto quello che abbiamo visto nell'anno 2023 barra 24, fine 2023, parte iniziale del 2024. Prima di ogni cosa però calendario economico perché questa settimana c'è la pubblicazione della decisione sul tasso interesse della Fed che è attesa assolutamente al 5,50%, quindi in sostanza nulla di fatto ma i mercati lo avevano già scontato, quindi stanno scontando un atteggiamento per quanto riguarda la Federal Reserve assolutamente non espansivo e tant'è vero che se andiamo a vedere per esempio i mercati classici come Nasdaq, andiamo lì a vedere per esempio dal gennaio del 2024, gennaio del 2024 abbiamo fatto un opening qui in questa zona, l'andamento per quanto riguarda questo gennaio del 2024 è abbastanza povero per l'anno 2024, inizia infatti da qui, da questa opening qui e siamo agli attuali prezzi a più 3,80%, in pratica up and down che non ha modificato in nessun modo l'andamento dell'anno 2024, anno che era atteso come anno di in pratica abbassamento dei tasse di interesse e quindi politica fiscale accomodante che però ciao ciao stenta ancora ad arrivare in quanto il soft landing che abbiamo avuto negli scorsi anni è stato veramente imponente, molto molto interessante la prima volta che avviene quindi così secondo me importante la prima volta che avviene, è venuto già in passato e quindi ancora l'infrazione galoppa, quindi 5,50% ancora i tassi, vediamo se scenderanno più in là, adesso tutto si dovrebbe spostare da dopo l'estate in poi alla politica economica della Federal Reserve perché sembra che non ci siano altre voci all'orizzonte quindi non ci siano altre questioni legate ad altre argomentazioni perché la politica fiscale accomodante potrebbe in effetti dare in là anche a Bitcoin alle cripto perché ragazzi proprio per quello che abbiamo già visto fare a Bitcoin poco pochi mesi fa con la questione ETF allora intanto questa è la questione ETF, io vi dico ragazzi andate a guardare questo grafico qui vediamo se riesco a ingrandirvi un pochino l'immagine senza sforarla, eccola qui, questo è il grafico che andrebbe guardato ragazzi, il vero grafico perché tutti questi rossi sono gli inflow di Bitcoin all'interno degli ETF, questi verdi, qui scusate non i rossi e i rossi gli outflow, guardate quello che è successo dall'inizio dell'anno, quindi tutta la galoppata dall'inizio dell'anno è stata sostenuta dalla domanda, domanda che ha impattato su Bitcoin, quindi immissione di liquidità che ha impattato su Bitcoin in maniera importante, è un secondo dato, un secondo dato rilevante da un certo punto di vista Bitcoin, già lo sapevamo dai dati scorsi, dagli anni scorsi, quello che abbiamo visto quando c'è stata la questione della crisi pandemica reagisce molto bene alle emissioni di liquidità, molto più che altri asset finanziari questo è stato ulteriormente dimostrato dalla questione ETF che istituzionali sì, istituzionali no, troppo poco sì, troppo poco no ha dimostrato che Bitcoin reagisce molto bene alle emissioni di liquidità questa è la nuova liquidità che entrava e ha reagito in maniera più che proporzionale molto bene perché ancora è piccolo tutto sommato e quindi riesce a reagire in questo modo se non che da questa data in poi, cioè dalla 15 di marzo che coincide in pratica con il 13 massimo di Bitcoin in questa zona qui, i mercati hanno iniziato a fare laterale ribassista perché gli ETF non coprerò più è inutile che stiamo lì a ciccischiare, questo è il risultato di questo laterale ribassista sì, a livello ciclico era atteso, è vero ragazzi, a volte l'analisi ciclica è la questione dell'uovo e della gallina nasce prima l'uovo o la gallina? È la stessa cosa, cioè l'analisi ciclica ci dice quello che avviene o sono i dati che poi vanno a impattare sull'analisi ciclica o il contrario allora, queste risposte non esistono, in pratica è un'analisi temporale ci diceva che il tempo era pronto per una fase di debolezza, così è avvenuta è avvenuta però perché? Perché la domanda da parte di ETF è scesa quindi, ok, c'è sempre poi un risvolto oggettivo da un punto di vista scientifico diciamo così, pratico, domanda-offerta, no? A livello di domanda di mercato che ha fatto sì che i prezzi si fermassero però da un punto di vista temporale che, vi ripeto, l'analisi ciclica è già una sul tempo, non sui prezzi era attesa una fase di rilassamento e questa fase di rilassamento è arrivata ma è un po' normale che è così perché la ciclica ragiona appunto sugli up and down dei cicli i cicli sono anche di ragione economica emotiva e quindi ci sta cioè non è anomalo una cosa del genere, è come quando c'è un'app di vendite e dopo, insomma, il down, dopo Natale, no? Per esempio, insomma, avvengono queste cose allora, stesso e identico discorso qui, ragazzi, i mercati si sono fermati perché gli ETF si sono fermati allora, morale della favola la questione è che Bitcoin in questo momento probabilmente è molto legato alla questione della emissione di liquidità la sua fase di bull non è trainata dai retail è evidente perché quando la questione legata alle mani forti degli ETF si è fermata anche se gli ETF abbiamo visto che tutto sommato probabilmente sono venduti a mini investitori non grandi investitori, cioè non parlo di miliardi, di balene che hanno milioni, milioni, milioni ma probabilmente il piccolo medio investitore ok, se quei dati che avevamo visto in quel video erano veri probabilmente è così però da un certo punto di vista mi fa comprendere come i retail, quelli veri, quelli storici dei mercati delle cripto hanno detto ciao, ciao, bye, bye, non ci sono ragazzi è tanto è vero che nel momento in cui si è fermata la leva ETF è finita la pull, è finita tutta la fase di risalita e si è fermata che comunque ci sta perché non è detto che questo dato non possa a un certo punto ritornare a creare una struttura del genere però dobbiamo iniziare a interrogarci su una serie di cose punto primo è secondo me il fondamentale bitcoin ha la forza di camminare da solo di ripetere, reiterare una bull run importante da giugno in poi probabilmente abbiamo visto le date più o meno quelle nei prossimi mesi anche senza l'influsso da parte degli ETF questa è la vera domanda bitcoin può riuscire nuovamente a camminare con le sue gambe? al momento la risposta è no perché da questi dati che abbiamo sembrerebbe di no c'è da dire però e io qua ve lo dico in maniera proprio certa ecco questo lo dico in maniera molto certa che questi pochi mesi da marzo a maggio in questo momento aprile fino aprile non sono significativi per dare una risposta oggettiva a questa domanda è anche vero che sembrerebbe così sembra che fermate la questione ETF bitcoin non cammini bensì fa una roba del genere io vi dico che da questo punto di vista questi dati questi dati specifici lo ripeto questi dati specifici non sono significativi perché era un momento in cui una fase di riposo anche dal punto di vista di altre tipologie di analisi era dovuta questo è il discorso quindi non possiamo andare a valutare in un contesto del genere una risposta di bitcoin come non ce la faccio da solo perché è sbagliata perché noi dobbiamo valutare il non ce la faccio da solo nel momento in cui ritornerà una fase positiva da un punto di vista temporale appunto con la ciclica eccetera dove bitcoin dovrebbe spingere se poi lì non spinge visto che se gli ETF non danno la mossa allora a quel punto possiamo iniziare a tirar su delle idee differenti come non ce la faccio a camminare da solo ma in un contesto del genere dopo gli alzi stellari del 2023 tra i più importanti di tutte le precedenti fasi dei cicli dell'alving di bitcoin non è possibile fare questa conclusione quindi ancora una volta è vero stiamo riposando stiamo lateralizzando è probabile che magari una fase di bassista potrà continuare ancora anche nel mese di maggio ma questa fase era assodata scontata se ci ovviamente non possiamo prevedere il futuro ma se c'era era accettabile cioè ci stava non era una cosa che oh mamma mia cosa sta succedendo ma è anche legata alla questione degli ETF allora morale della favola non sappiamo ancora se bitcoin riuscirà a camminare anche senza il flusso dell'ETF e soprattutto non sappiamo ancora se l'influsso degli ETF l'afflusso diciamo del capitale è finito questo è il discorso hanno finito di accumulare è finita il gioco ragazzi allora questa è la domanda vera allora due all'orizzonte due eventi importanti primo la questione legata alla fase ciclica che lo so sembra per alcuni magari non vi piace la ciclica ma vi assicuro le fasi emotive sui mercati sono molto importanti e quando è come quando vi danno una notizia se voi avete il mood negativo la notizia è sempre presa male se voi avete il mood positivo la notizia è sempre presa meglio bene ok quindi il mood dei mercati chiamiamolo così così piace di più anche a chi non piace l'analisi ciclica il mood dei mercati quando virerà e ci sarà una scadenza temporale per cui questo mood il sentiment dei mercati vira ad essere più euforico nel momento in cui avviene una cosa del genere se ritornano gli acquisti degli etf potremmo avere un effetto incalzante altro fenomeno ragazzi tutta la politica monetaria della fed è stata spostata alla fine dell'anno 2024 neanche nei prossimi mesi alla fine quindi se dovessimo avere delle dei ritracciamenti dell'inflazione importanti che dimostrano che l'inflazione sia sotto controllo quella europea sembra sotto controllo quella americana no ancora no però se ci sarà una cosa del genere probabilmente le banche inizieranno a tentare di ridurre di uno 0,25 il tasso interesse quindi immetteranno liquidità abbiamo visto che la liquidità nel mercato delle criptovalute produce una roba del genere quindi la liquidità può entrare sia sotto forma di nuovi etf sia anche relativa alla diminuzione dei tassi che vi ricordo essere ancora un argomento che non ha dato nessuna impatto sui mercati quindi ancora noi quell'ambito lì non l'abbiamo scontato poi c'è la questione halving quindi principi riflessivi dell'halving eccetera che dovremmo andarlo a vedere allora questa è la vera domanda il vero gioco ragazzi però c'è da dire anche la questione come sta in questa fase per esempio vi mostro i cicli di bitcoin in questa fase quindi più breve quindi non legati al dopo l'estate come quello che ci siamo detti finora ma più a breve più a breve qui è iniziato un nuovo ciclo mensile che sembra molto tebole ora perché dico sembra ragazzi perché intanto che il minimo di questa fase andrà a reggere io il ciclo mensile l'ho spostato un po' secondo quelli che sono dei miei calcoli insomma eccetera però se volete farlo partire dal minimo il minimo è a 59,6 fino a quando questo minimo regge tutta questa fase è neutrale il problema dov'è che più passa il tempo e più questa fase diventa pericolosa perché in realtà fino a più o meno 15-16 giorni ci sta che possiamo lateralizzare da dopo 16 in poi se il mercato non inizia a spingere tentando di arrivare sopra il 67,7 livello che vi ho di cui vi ho parlato nell'ultimo video importantissimo allora cosa succede che poi questo mensile quando andrà a chiudere sarà probabilmente un mensile ribassista che continuerà questo trend e questa volta non potrà fare a meno di rompere questo livello da 56 e tentare quindi una discesa a 59 e tentare una discesa intorno almeno ai 56 attenzione perché potrebbe non essere assolutamente l'ultimo mensile perché potremmo avere poi un altro ulteriore mensile che è questo qui che chiude i giochi a metà giugno quindi in sostanza tra pochi giorni due tre giorni ormai il mercato deve prendere una decisione e bitcoin deve dare un segnale se questo segnale come vi avevo promesso non arriva già oggi è lunedì e non è arrivato domani dopo domani se vogliamo essere buoni diciamo così da lì in poi non ce n'è questo significa che questo mensile è debole e un mensile debole è pericoloso non è detto che faccia grandi minimi può fare un doppio minimo può lateralizzare e basta va bene però è debole questo è il significato ed è pericoloso una cosa del genere anche perché è collegato ad ethereum ad un atteggiamento di ethereum molto rilevante ragazzi cioè ethereum su questo livello in questa zona ha probabilmente chiuso un trimestrale questo significa che questa fase rialzista di eth è l'inizio di un nuovo trimestrale questo nuovo trimestrale ha una scadenza intorno a metà fine giugno ancora una volta e ritorna questa data abbastanza evidente qui abbiamo un canale discendente tra le altre cose che è abbastanza visibile e che sta tenendo in questo momento i prezzi di eth in fase di bassista c'è spazio ancora per un tentativo di rialzo di ethereum per fare anche l'impatto qui ed essendo un nuovo trimestrale può anche farmi il break leggero di questo livello per poi riprendere il ribasso lo può fare ecco qualcuno di voi sta sorridendo e dice ah quindi il break out di un canale di bassista è possibile anche non indicando una inversione di trend sì se siamo in un'analisi ciclica che può giustificare questa cosa e vedete come c'è interdipendenza tra le analisi bisogna saperle usare poi insieme per ottenere l'informazione quella adeguata in questo specifico contesto anche il break out di questo canale è possibile ma non cambia le sorti di questo trimestrale perché anche qui sembra un trimestrale molto spento e quindi abbiamo un po' paura della questione 12 giorni ancora è molto poco però dobbiamo vedere intanto come chiude un primo mensile questo potrebbe essere un trimestrale secondo me molto spento rispetto agli altri anche in termini temporali più corto e secondo me potrebbe essere ribassista anche per Ethereum ricordo che TH tra le altre cose ha chiuso l'ultimo mensile al ribasso molto di più rispetto a Bitcoin quindi la continuazione di questa fase potrebbe essere naturalmente questa qui ora non guardate i prezzi io sono stato eccessivo però potrebbe essere semplicemente una prolungamento di questa fase al ribasso detto questo io volevo anche chiedervi cosa ne pensate voi di questa fase e soprattutto chi di voi sta demordendo in questa fase perché vi ricordo che uno delle caratteristiche come si diceva del diavolo è far pinta che non esiste cioè ragazzi uno delle caratteristiche di queste fasi è quello di farvi farvi perdere l'attenzione ai mercati far sì che nel momento propizio nel momento giusto quando servirà voi siete distratti d'alto perché siete addormentati come il mercato quando il mercato si addormenta i retail si addormentano insieme al mercato e i pro fanno i loro giri e i loro giochi si posizionano per quello che avverrà dopo quindi occhi puntati su quello che avverrà dopo da maggio giugno in poi ragazzi da giugno metà giugno dovrebbe essere in poi e in questi mesi studiate e posizionatevi con le vostre strategie create trading plan non fate cose a casaccio formatevi perché ne vale la pena e studiate con le vostre strategie come posizionarvi per questa opportunità che potrebbe arrivare perché se l'opportunità arriva questi giorni qui saranno i giorni che rimpiangerete più di tutti e sono esattamente quelli dove il mercato ci fa addormentare va bene noi ci rivediamo nel prossimo video buon inizio settimana a tutti ciao ciao